buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio con questo qua che mi è venuto dietro non si sa perché è uno sporcazione e proviamo a farsi la casa che cacchio vi devo dire adesso dovete trovare giusto un luogo prorompente per potermi fare una casettina questo qua tra l'altro sembra la zona di star wars vabbè dopo dove c'è anakin skycribio e voilà fai devo tenere almeno altri 40 punti lavoro in questa città perché andiamo a lavorare va bene allora prendiamo intanto in mano la moto secca che è sempre bello avere in mano delle moto seghe ecco non si può fare niente cosa c'era in fondo non puoi adentrarti troppo nel void eh ma io no cosa mi succede perché stavo vabbè salve mi dia mi dia del lavoro si possido possido mi dica eh questi jetpack mi dicono ah fa culo muori stronzo cacchio è qualcosa qua ok ma dove sono degli alberi da abbattere delle cose da fare che io voglio ah una roba così vota sta a te ma se io tipo do una vota qua ah fermi tutti piccone e giù picconate picchi non quello questo vai no ma era uscito cerchio ah monumento che commemora la compassione tra compagne lavoro guadagnato da rianimazione compagno aumentato dal 50 per cento va bene posso picconare questo no c'è un albero moto seguiamo anzi non mi sembra tanto un albero però io moto seguerei lo stesso capienza degli edifici ok dove si trova del lavoro usa devo camminare cosa dovrei fare tu dire a me ho già visto questo video non è niente di nuovo ok mo finisce il video e io devo fare del tapiru lan e so parte loop questo mio nome io scella mettiamo beh scherziamo tasti a caso ma che cazzo mi sono andati mi è andato giù qualcosa allora perché mi vanno giù dell'energia non sto facendo niente ciao 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 Grazie a tutti.